Allora intanto, ciao Simone, ragazzi, ciao a tutti, vi do il benvenuto come ogni volta in queste video interviste nel mio canale YouTube Informa Senza Fitness, che è l'unico canale che ti permette di essere in forma tutto l'anno senza mettere il fitness al centro della vita. Allora, intanto mi fa veramente piacere avere Simone qui con noi in questa video intervista per veramente tanti motivi, le sue foto le conosciamo tutti, sappiamo bene i cambiamenti che ha fatto, ma vorrei veramente che fosse Simone a presentarsi, dire chi è, cosa fa, perché è qui e perché mai un giorno di qualche tempo fa ha deciso di essere seguito dal mio progetto Sfera e di iniziare questa cosa con Filippo Rispoli che è così arrogante, dispotico, mangia i bambini e non capisce assolutamente nulla. Spiegaci questa cosa, Simone. Ciao Filippo, ciao a tutti. Nulla, sono Simone Bonacchi e ho deciso di fare il percorso Sfera perché non mi vedevo come volevo essere e ho scelto Filippo perché mi sembrava una persona adatta al mio modo di vedere il fitness. E diciamo che qual è stata la decisione per la quale tu hai deciso di intraprendere questo percorso, perché è proprio online, eri in una situazione particolare, non ti vedevi bene, qual era il problema principale? No, il problema era che sì, ovviamente non mi vedevo come volevo essere, non mi vedevo bene e ho scelto il percorso online perché volevo una persona fidata, sapevo che Filippo aveva dei feedback giusti dei suoi clienti e ho deciso di far parte del suo percorso. Certo, certo. E c'era qualcosa che, cioè è stato proprio il fattore feedback a darti la spinta in più ad intraprendere un percorso qui con noi? Sì, sì. Principalmente sì. Poi seguivo i video su YouTube e sta roba qui del vecchio si commando, diciamo. Ok, ok, ok. Allora, diciamo che la cosa importante, ecco, hai visto che poi è totalmente diverso quello che faccio, penso che tu abbia visto anche la differenza, ma dopo lo diremo magari in maniera insieme, no? Cos'è che è successo nel tuo corpo? Cioè, torniamo un attimo alle basi, alle cose concrete, no? Nel tuo corpo cosa è successo a livello di specchio, a livello di forza, a livello di definizione? Tutto. Cambiava tutto, semplicemente. Dica che non ti conoscono, proprio più numeri dici. Fai capire meglio cos'è successo. Nulla. Sono partito da una base che pesavo sui 70 kg, 75 kg. Sono un metro e 80. zero muscoli. E niente. Ora sono un po' cresciuto. Mi vedo abbastanza bene, però c'è ancora tanto lavoro da fare. Ok, quindi quanti chili hai messo su e in che modo? Ora ne penso circa 90 e in due anni nel modo del bodybuilding. Ok, ma da che situazione sei partito? Cioè, quanti chili hai messo su? Racconta un po' meglio, perché noi lo sappiamo molto bene, però le persone non possono capire quale fosse la tua situazione di partenza. Cioè, tu venivi da... Quanti chili eri quando sei partito qui con noi? 70 kg. 75 kg. Quindi hai messo su 20 kg di massa muscolare in due anni? Sì. Ok. Cioè, non è un risultato proprio da poco. Ecco, mettiamola così. Ok. 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 Cosa è che ti, diciamo, ti ha fatto pensare di aver bisogno di qualcuno? Non riuscivi a farcela da solo? Cos'è che ti bloccava? Io mi allenavo nella palestra con il classico istruttore di palestra, però con i soliti programmi, le solite bischerate. Mi vedevo, sapevo che non era quello l'allenamento che volevo fare. Era una scheda che davano a qualsiasi persona che entrasse in palestra. Io facevo gli stessi esercizi di un'altra persona e... Andavo in palestra senza motivazione perché... Riesci a fermare un attimo il cellulare perché sembra di stare in mal di mare? Ok. 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 Cerca di... Ok. Ok. Se no è un problema. Quindi diciamo che... Tranquillo. Ci mancherebbe. La cosa importante non è questa. La cosa importante è che tu abbia preso questi 20 chili, possiamo dirlo, senza usare esercizi fondamentali, cronometro, fasi di massa, fasi di forza, percentuale di peso. Di se è vera questa cosa? Sì, 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 verissima. Io non ho mai fatto periodi di massa fondamentali a quasi punti, quasi mai, diciamo. Io la panca... Penso che la panca come l'ha data agli inizi dei programmi, ma proprio una volta, mi parli. Ok. Ma è da tanto che non fanno la fuoco. E la cosa, la cosa interessante, no? Diciamo, cos'è che ti è sembrato subito diverso del mio programma rispetto a quello che avevi già fatto con altre persone? Cioè, dov'è che hai capito che c'era effettivamente qualcosa che non eri mai riuscito a inquadrare nei tuoi vecchi programmi prima, tu hai saputa? L'allenamento. 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 Dopo... Cioè, lo senti. Lo sentivo subito la differenza di un allenamento che veramente mi allenavo. Invece che un allenamento che uscivo dalla palestra, sì, mi ero allenato, ma... Niente di che. Diciamo che facevi tanto enerico, facevi tanta fatica, facevi tanto peso, ma non vedevi il risultato nel tuo corpo. Sì, sì. Poi, logicamente, non sapevo neanche allenarmi. Come tuttora non mi so allenare, però agli inizi ancora... Certo. Quindi hai ancora ampio margine di miglioramento nonostante tu abbia preso questi 20 chili, no? E per chi non conoscesse il nostro percorso, no? Tu hai la possibilità di telefonarmi in qualunque momento, hai un tutor, hai il gruppo chiuso, hai l'applicazione, hai i libri a casa, hai l'area con i 160 video. Quindi, cosa dicono tutte le persone che sono a te vicine, tuoi amici, di tutte queste cose che hai tu e che magari loro non si sognerebbero neanche di desiderare in qualunque altro tipo di percorso? Non lo so, perché io, sinceramente, amici che frequentano la palestra non ne ho. Cioè, non lo saprei neanche dire. Cioè, diciamo che per te... Tu pensi che sia una cosa abbastanza normale, no? Ma... Cioè, ti rendi conto che magari fuori non è proprio così quello che si vede in altri percorsi? Oppure te ne sei reso conto? Oppure no? No, 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 no. Io personalmente me ne sono reso conto. Cioè, lo so, la differenza tra il tuo percorso e gli altri. Io guardo un po' su Instagram, guardo gli altri... guardo anche altre persone che fanno il tuo stesso lavoro, però vedo la differenza. E qual è la cosa che vedi più differente in assoluto? Proprio se tu dovresti dire una caratteristica della quale noi dovremmo assolutamente vantarci rispetto agli altri? Una delle osse che... cioè, gli altri non hanno di sicuro è un'applicazione dove ti dice la tua scheda, tutti i tuoi programmi, tutti i tuoi esercizi, ti fa vedere anche i video degli esercizi che tu devi fare. Beh, di essere seguito da un tutor, da una persona che tu puoi chiedergli in qualsiasi momento un consiglio, una variante o qualsiasi cosa per un allenamento. Diciamo che ovviamente sono io che vi seguo, che faccio allenamento e tutto, ma è poi il tutor che ti va ad aiutare in tutte quelle che sono le domande che tu hai nel percorso. Perché io sono qui a fare questa videochiamata con Simone, non è che i miei clienti devono stare qua ad aspettare me. Quindi giustamente i miei clienti in questo momento staranno chiedendo ai tutor come devono fare quello che devono fare. Cos'è che... tra l'altro chi è il tuo tutor? In questo momento non me lo ricordo. Cristian. Cristian, in cosa ti aiuta? Cioè, quali sono le... perché magari le persone pensano, ma a me tanto un tutor non mi serve. Cioè, perché Simone ha preso 20 chili di massa magra e le foto lo dimostrano in due anni, no? Queste persone che dicono che non gli serve il tutor, io le vedo sempre uguali. Quindi dov'è che il tutor ti aiuta e ti sprona e ti mette il binario giusto per fare quello che devi fare? In tutte le domande che mi viene da porgli, lui mi dà una risposta. Se un giorno... cioè, se in un programma non capisco magari un determinato esercizio, lui mi sa dare una risposta. Magari nella mia palestra non ho un tipo di attrezzo, lui mi dà la variante. Qualsiasi cosa, sull'alimentazione, su tutto. Su tutto quello che gli voglio domandare, l'allenamento, lui mi sa dare una risposta. Alle persone che dicono che tanto queste cose non servono per migliorare, no? Alla fine serve solo l'allenamento, serve solo la dieta e tutte queste sono stupidaggini, no? O vischerate, come dici tu. Tu cosa vorresti dirgli? Che non è affatto vero. Che non è affatto vero perché il fitness è composto da tanti fattori, da diverse situazioni. Certo. La cosa interessante è che tu ovviamente sei dentro al mio gruppo chiuso, no? Quindi hai la possibilità di parlare con altre persone che sono nel mio progetto, anche senza passare da me. E penso che sia umano il fatto di confrontare la scheda con quello di un altro. Sì, 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 non trovo nulla di sbagliato. Ti è mai capitato di trovare anche in una minima, minima, minima parte, solo per una persona, non su tutte le centinaia, ma per una persona, una minima parte, una scheda uguale? No. No, mai visto gli stessi esercizi o la stessa scheda uguale alla mia. Ok. E invece cosa pensi delle persone che fanno le schede tutte uguali? Pensi che questa cosa esista oppure no? Sì, 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 esiste, esiste. E puntano soltanto al guadagno, semplicemente quello. Diciamo che fondamentalmente a me mi si accusa di essere così caro, e in effetti sì, ok, sono caro, però sicuramente costo molto, ma sicuramente tutta quella rete un po' fumosa, no? Di schede mezze uguali, io non posso, che non posso conoscere chi c'è nel percorso, non mi si mette in relazione, non mi si può chiamare, se non sai come fare gli esercizi ti attacca le palle, oppure se no vai su YouTube. Cioè, nel senso, così ero buono anch'io, non ci voleva un genio, no? Cosa vorresti dire a Simone di due anni fa, che si trovava sui 70 kg, se potesse parlargli il Simone di adesso che pesa 90 kg? Al vecchio Simone, direi che non sapeva allenarsi, che non sapeva cosa voleva dire veramente il fitness e il bodybuilding, e soprattutto sono, ma ha cambiato anche mentalmente. In cosa ti ha cambiato? Come stai meglio? Mi ha maturato, mi ha cresciuto mentalmente in tante prospettive, diciamo, in tante cose. Ok, ok. E cosa volevo dire? Nel senso, cosa direste a una persona là fuori, che si trova comunque un po' disorientata, si trova in uno stallo, non sa cosa fare? Cioè, quale sarebbe il consiglio? Tu qui hai la possibilità di arrivare a tante persone, cosa gli vorresti dire? Di affidarsi a una persona qualificata, di affidarsi a una persona che stia veramente dietro a lui e che le aiuti a raggiungere i suoi obiettivi, perché se no è tutto il tempo buttato via, e quello è il soldo. Quindi diciamo che le persone dicono che costo molto, ma quanto tempo stanno buttando via in programmi che non funzionano? Quanti soldi stanno buttando via in programmi che non funzionano? Noi possiamo dire che le foto, ripeto, lo dimostrano. Noi abbiamo messo su 20 kg. Abbiamo usato, ti chiedo veramente nella massima onestà, fasi di massa, programmi di forza, lo vorrei ripetere, fondamentali, percentuali di peso. Quindi a tutte le persone che ogni giorno mi rompono le palle, dicendo che non si può far migliorare la gente come faccio io, cosa ho fatto? Ti ho ipnotizzato? Sei migliorato, chissà, per la mia ipnosi, oppure no? No, no, è stato soltanto un programma a lungo termine, ci vuole del tempo per crescere, nulla arriva così da niente, però senza programmi di massa, senza avere periodi di bulk o cose del genere. Semplicemente allenandosi, seguendo un programma. Ok, e adesso ti arriverà a casa il mio libro, no? Arriveranno due libri sulle testimonianze, completamente regalo per voi, no? E visto che, come ben sai, io ho anche un soddisfatti e rimborsati del 100%, no? Secondo te perché sono l'unico a fare queste cose? E nessuno mi può dire che non sia l'unico. Cioè, se qualcuno sta guardando questo video, no? E ha un libro sulle testimonianze, è un soddisfatti e rimborsati, lo scriva qui sotto così che mi possa sbugiardare in ogni momento, no? Perché sono l'unico a fare questo? Perché sei consapevole di avere un servizio ottimo, semplicemente quello. Sei consapevole di avere un servizio che non offre nessuna altra persona e che difficilmente le persone possano venire, cioè, li possano essere contrariate da questo. Può essere soddisfatti. Di tutte queste situazioni, del tutor, dell'area riservata con tutti i video spiegazione, dell'applicazione stessa, cioè, sarebbe facile rinunciare a tutto questo? No, no, assolutamente no. Ok, ok. Questo è molto importante per me, veramente molto importante. E diciamo che, guarda, tu adesso hai la possibilità, intanto ti ringrazio per questa breve intervista, ma ripeto, penso che le tue foto, cioè, parlino più di qualunque intervista che noi possiamo fare. Infatti è per questo che ti volevo qui. Se tu dovessi dire qualunque cosa, hai il canale che è aperto per te, là fuori ci sono tanti ragazzi che giustamente sono indecisi, perché è giusto che sia così, quando uno tiene al proprio corpo deve essere indeciso. Quindi, cosa gli vorresti dire? Affidatevi al GOR, al Progetto Sfera, che raggiungerete i vostri obiettivi, senza alcuno sforzo, diciamo, senza problemi. Seguendo soltanto quello che viene detto, con il protocollo è tutto e raggiungerete i vostri obiettivi. Diciamo che non è tutto semplice, non è tutto facile, però ho superato i primi scalini della prima settimana, dove è un po' tutto diverso, dopo è tutto molto più automatico. Allora, intanto, grazie Simone, perché mi ha fatto, intanto, veramente piacere. Oggi è sabato e l'unica cosa che volevo dirti, anche in questo periodo di coronavirus, problemi, noi siamo spariti oppure ci siamo messi a lavorare il doppio? No, no, proprio l'altro giorno ho scritto a Cristian per sapere un po' ora come devo fare, visto che siamo rinchiusi in casa. Se mi può dare delle varianti sugli allenamenti, lui ora è dietro a farmi una scheda. Diciamo che l'ha detto a me, perché le schede non le faccio, però va bene, assolutamente no. No, è la cosa che, cioè, questo è molto chiaro, perché le persone dicono, cioè, hai tutor che lavorano per lui, ma non è quel servizio che ha sbagliato, però non è quello che faccio io. Cioè, sono solamente io che faccio le cose e non potrei mai far fare quello che faccio io ai miei tutor, che offrono solo ed esclusivamente da consulente. Non è sbagliato, ma non è quello che faccio. Bene, Simone, guarda, allora, io intanto ti ringrazio veramente tanto. Andiamo avanti, diamoci un altro obiettivo ancora più forte, perché no, di superare anche questa quota senza mettere grasso, ovviamente. Quindi io saluto tutte le persone che sono state qui ad ascoltare questa breve videointervista con Simone, do il benvenuto a voi tutti al prossimo video e, mi raccomando, dateci dentro senza dogmi e senza stupidaggini. Ciao! Ciao!